Un pomeriggio di confronto e discussione si è svolto ieri nella sala ostrichina del compendio vanvitelliano del Fusaro, dove il sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, ha invitato la cittadinanza a prendere parte con idee e suggerimenti alla presentazione preliminare del PUC, il Piano Urbano Comunale, nell'ottica del progetto urbanistica partecipata, previsto dalla normativa vigente. Partecipiamo al Piano è significativamente il nome dell'iniziativa, durante la quale sono intervenuti tra gli altri l'assessore all'urbanistica Marianne Illiano, l'assessore alla partecipazione Francesca Illiano e la psicologa Francesca Scafuto. Sicuramente intendiamo coinvolgere i cittadini con diversi strumenti, dapprima con i focus group, che sono questa intervista di gruppo focalizzata su cinque temi che abbiamo scelto insieme all'assessorato all'urbanistica e di cui chiederemo già in questa prima presentazione ai cittadini di specificare i sottotemi specifici, quelli che appunto sono di loro interesse. I focus group, le passeggiate di quartiere e gli interventi nelle scuole con photo voice ed altri strumenti come le mappe di quartiere per coinvolgere anche i giovani, giovanissimi, perché il disegno della città è chiaramente un progetto che coinvolge tutti. Presente all'evento, oltre al responsabile del procedimento, Gennaro Cionfrini, anche l'architetto Luisa Fatigati, che ha sottolineato le novità introdotte dal nuovo piano. Il PUC, a differenza del PRG, si articola in due parti, una parte strutturale ed una parte operativa. In qualche modo la parte strutturale è quella che disegna uno scenario macro del territorio, l'immagine verso la quale noi vogliamo tendere. Dico noi perché questo presuppone proprio la partecipazione della comunità. bisogna fin dall'inizio che gli obiettivi vengano condivisi. Anche la lettura del territorio, c'è una lettura dei tecnici, che però è una lettura che può essere una lettura dello straniero che viene sul territorio, cioè una lettura esterna, e c'è un racconto che è il racconto di quanti questo territorio lo vivono. A confronto questi due racconti generano l'immagine, l'identità di questo territorio ricchissimo, tra l'altro è bellissimo, che oggi ospita qui appunto la presentazione del progetto. Per questo l'importanza della partecipazione, sia nella prima fase che nella seconda fase, sia nella fase di co-costruzione, diceva Francesca che mi ha preceduto, sia nella fase di co-costruzione della parte strutturale del PUC, quella che disegna i grandi scenari, quella che individua per intenderci, quali sono le risorse sulle quali il territorio deve puntare per il suo sviluppo, quali sono le invarianti che bisogna tutelare, che bisogna salvaguardare, e una parte invece che è quella operativa, programmatica, e che si riferisce invece al breve periodo e mette in campo delle azioni per il raggiungimento di quegli obiettivi.